A Napoli le persone senza fissa dimora sono circa 2000, tra cittadini italiani e persone immigrate. Noi come Comune di Napoli riusciamo a coprire circa 500 posti letto, suddivisi in diversi dormitori in tutta la città. Il Comune di Napoli da questo anno ha attivato un servizio importante per le persone senza dimora. Innanzitutto un centralino operativo e 5 unità di strada che lavorano su tutto il territorio. Un'equip formata da educatori, sociologi e psicologi che servono ad accompagnare le persone senza dimora che vivono la strada. Tutti i cittadini ci possono aiutare. Abbiamo istituito un vero centralino operativo dalle 8 alle 20, tutti i giorni compreso il sabato e la domenica, dove è possibile segnalare i casi di emergenza, segnalare persone che dormono sulla strada e che hanno bisogno di essere accompagnati ed accolti dalle unità di strada. Per l'emergenza freddo abbiamo istituito due luoghi aggiuntivi, dove le persone senza dimora possono ripararsi. Presso l'Istituto Tanucci e presso il nostro dormitorio pubblico, spazi aggiuntivi con circa 50 posti letto, dove daremo sia la cena durante l'accoglienza e la colazione. Ma questo servizio è importantissimo perché ci dà l'opportunità di essere più vicini alle persone che vivono la strada e di cercare di entrare nei loro bisogni e nella loro vita e di aiutarli.